Variante Delta in salita. Il Covid resiste in alcune zone dell'Abruzzo e Teramo è prima della lista con 21 casi riscontrati nell'arco di una settimana. L'asola di Teramo decide così di dare un maggior impulso alla campagna vaccinale che in questi giorni ha fatto registrare un trend al ribasso e avvia un'iniziativa sulla costa per rendere le spiagge Covid free. Da venerdì 2 luglio un camper attrezzato sarà nei comuni costieri dalle 17.30 alle 22.30 per offrire alla popolazione la possibilità di sottoporsi a vaccino e a tampone. Si inizierà con Silvi per proseguire il 3 luglio a Martinsicuro, il 4 con Roseto, il 9 con Alba Adriatica, il 10 con Pineto, l'11 con Tortoreto e il 16 e 17 luglio con Giulianova. L'asola di Teramo è arrivata a buone percentuali di popolazione vaccinata, spiega il direttore generale Maurizio Di Giosia, ma non ci si può fermare. L'obiettivo è immunizzare un numero sempre maggiore di persone in modo da sperare in un autunno più sicuro per tutti. Con questa iniziativa si tenterà di intercettare soprattutto i giovani e gli adulti che non si sono voluti vaccinare, oltre a tutti i lavoratori impegnati nelle attività turistiche che hanno difficoltà a recarsi negli hub sul territorio. Il camper in spiaggia dell'asola di Teramo sarà un'opportunità anche per chi deve ricevere la seconda dose, condizione fondamentale per proteggersi in generale e soprattutto dalla variante Delta, che alla fine dell'estate sarà predominante. A Teramo si sono avuti già due casi di ricoveri di pazienti che si erano vaccinati con la prima dose e che sono finiti in ospedale perché positivi e con disturbi respiratori.